Ciao a tutti, ciao ai nostri telespettatori. Questa sera noi ci vediamo lassù in alto, quindi ogni tanto ci vedranno guardare in alto. Siamo in cielo. Senza la televisione non potresti fare niente. È una televisione, è una scatola, ed è una scatola magica che c'è in tutte le famiglie. Lo accendi e da casa ti vedono e diventi popolare. Della chiappa, perfetto, ok. Direttore popolare diventa chiunque. Basta apparire. I hate all these people. If I say famous person, I say come on. I say money. Not person. I say business. So, me, I'm going to be the Robin Hood of the people. Take out from the rich guy. But I don't give it to the people, they give it to me. This is modern form of Robin Hood. So, bec the people. Grazie.